Scusate se il tono non è dei migliori ma purtroppo ha vinto Stoner. Succedono anche le cose più brutte quando vince il lato oscuro del motociclismo. Quindi niente in piedi sul divano, niente esaltazione, niente. Il buio è calato sul campionato. Come se qualcuno avesse sperato che le cose potessero andare diversamente da così all'ultimo momento, come se fosse stata una sorpresa oggi. Ma solo qui, perché nell'altra Mediaset Premium, quella pagamento, non è così male. Mi piace molto di più, molto più professionale, molto più equilibrata. Però non ha il dopogara che ha questa, non ha il dopogara che taglia uno. Stoner ha vinto il mondiale del tema qual è? Valentino. Come bar, se nella versione con più ospiti, questo è il bar di Guerra Stellare, nella versione intima è più un pub in ora di chiusura. C'è il barista simpaticone col bicchiere in mano. E poi neanche mi dispiace tanto. Io lo trovo autenticamente sincero nel suo candore, una specie di personaggio di Carlo Manzoni. Carlo, non Alessandro. Un signor venerando a televisivo. Poi c'è l'altro ventore, un po' diabolico, uno che in effetti è super competente, uno che ha visto tutto e che ci tiene a farlo sapere anche troppo. quando correvo io, quando c'ero io. Ma cosa ne pensi di Stoner? Ma sai, quando io era in Cagiva. E poi ovviamente c'è il giornalista che purtroppo per non essere da meno deve rilanciare col rischio abbastanza concreto di sparare qualche fuoco d'artificio di troppo. Abbiamo visto quanto la Ducati sia difficile da guidare per Valentino, figuriamoci per Stoner, cioè un'analisi retroattiva. Perché se Stoner è debole di testa, smetterà presto perché ha comprato le mucche. Però Stoner ha vinto un mondiale e vinceva le gare. Valentino ancora no, purtroppo. Però è più forte di testa. Figuriamoci Stoner. Eh, Stoner vinceva. Vabbè. Comunque, adesso Stoner vinceva che ha la onda, è facile, si guida da sola, dimenticando però che senza di lui sarebbe una Yamaha essere davanti. E fino a qui sono insomma le solite valutazioni, insomma. Fino a quando non c'è l'intervista a Rossi. E allora ovviamente tutti i proni, con quella manovra, non potevi cadere, proprio era impossibile fisicamente. Bravo, bravo, è giù, è vero. È impossibile cadere. Guarda, è una roba strana, ma chissà che... quanto deve essere storta quella moto lì. E poi si comincia a insultare la Ducati, eh. Quindi non è proprio come una naturalezza proprio che si vede proprio da attore dell'Hactor Studio. Eh, che appunto hai preso, eh, sul foglio magico. Eh, sai, io sul foglio magico ho preso, ho scritto quattordicesimo giro, Rossi out, cade, via davanti, moto di me. merda. E tutti, eh, bravo, è moto di merda. Una cosa proprio naturale. Invece è una cosa preparata durante la pubblicità. Poi ovviamente, considerando che nell'attesa di uno strepitoso 2011, che poi non è arrivato, Ducati è il principale inserzionista sul canale, oggi è arrivato uno shampoo colossale. E quindi scuse, ovviamente, ovunque sul web. Ed una seconda caduta di stile. Insomma, ormai la figura ci è fatta. Io, ho 30 anni di esperienza, mi prenderei un po' la responsabilità della coerenza, direi moto di merda, ok? L'ho detto. Allora lo penso. Quindi? Si può dire? Posso dire? Sono un giornalista, lo dico. Tanto sono tre mesi che ormai lo diciamo in tutti i modi. Invece no. Tengono tutti famiglia, quindi tutti che si battono il petto. Ah, vabbè. E comunque, se pensare che c'è nella stessa redazione chi chiama i miei partner commerciali per chiedere di non fare pubblicità su Mr. Helmet, io mi terrei stretti i miei di sponsor se fossi in qualcun altro, magari dicendo quel che penso, ma senza insultarli. Com'era lo spot? L'arte di fare una figuraccia rimanendo sempre al centro dell'attenzione. Vabbè, e qui uno pensava che si sia toccato il fondo, ma invece c'è il rilancio. Le difficoltà di Valentino, perché mi ricordo un periodo che ho avuto in Cagiva, ti pareva? E poi c'è un'altra poesia, anche questa, insomma, così naturale che uno, che infatti viene letta. Le sfighe non vengono mai da sole, sono come la cacca nel pannolone, s'ammucchiano. È un haiku. Cioè, i contenuti sono più d'annunzio, più fellini, più, diciamo, più marinetti, però come forma è un haiku, no? Sono i tre versi, così veramente. Poi tu dici, beh, è bello, è bello, è un pannolini, questa visione, insomma, così. Poi il volo viene, c'è anche il tempo per coglionare un po' Mick Duan, che è quello che ha vinto 5 mondiali e ha lasciato a Rossi la moto con cui gli ha passato il testimone, perché Ducati, una volta che la moto non funzionava, ha iniziato a fare dei tentativi, cioè ha sempre soluzioni a metà per capire qualcosa, non c'è da stupirsi che le cose stiano andando così. Ducati lavora un po' a cazzo, insomma, ecco. Poi c'è la domanda a Guareschi, quella sull'ingombro del motore, questa è la domanda tecnica più bella che io abbia mai sentito. Ma tu guarda se uno che si è sciroppato qualche milione di chilometri, si deve chiedere come si può risolvere il problema di un motore troppo ingombrante. E lui giustamente si vede che si dà dei pizzichi sulla coscia come facevamo noi a scuola per non ridere, durante l'interrogazione, è l'unico modo. E alla fine gli chiedono, insomma, quindi a gennaio, a gennaio smettete con questa moto qui che non va e finalmente fate una moto tipo giapponese col telaio, insomma, il succo è questo. E quello li guarda e gli fa... E poi andano in studio, ma la sapranno fare? Siamo sicuri? Perché io ho chiesto in giro, non mi sembra così facile. Eh no, no, sono bravi. Guarda, ma come, Mike Cailwood negli anni, la gente veniva in Italia a farsi, a Milano a farsi fare i telaio, perché gli italiani sono il numero uno nella ciclistica. Vuoi che questi della Ducati non sappiano fare una moto come i giapponesi? Eh dai, su. Boh, follia. E poi giustamente c'è spazio per la goliardia, diciamo, facciamo un po' di goliardia, dai, visto che ci siamo, invece fino a questo momento no, eh. A parità di moto, tutte e quattro le moto uguali, come va? Come andrebbe? Ma dai, ma che domanda, Valentino, a limite pari, ma già il nome di Valentino, cioè uno sta correndo, già avere il nome di Valentino che ti spaventa. Io me lo immagino Stoner, quello lì che fa quello che gli pare, come al solito, e arriva uno, Valentino, eh, tutti che cadono, pressioni, gente che sbaglia, gente che fa i lunghi. Boh, fate andata così quest'anno, il nome è stato sufficiente. Io mi chiedo se a Rossi non dia fastidio questo modo qui di fare informazione e analisi. Però c'è spazio per un ultimo rilancio, gli ultimi fuochi d'artificio. Senti, ma, visto che siamo al bar, ma va, con moto uguale, cioè, se avesse la moto di la Honda, Valentino, come andrebbe? Cioè, vi spiego io il senso della domanda, eh. Cioè, quante palle deve avere mio nonno per essere un flipper? Tre? Oppure serve anche l'extravole? Perché il senso è questo. Ma con la Honda? Dai, ma che domande fai? Cioè, Valentino, io che pensavo che invece il bello del motociclismo fosse basato sull'avere moto diverse, che uno poi sviluppa, che accetta le sfide, insomma queste cose qui, e invece no. Bisogna cercare il modo di dire, il modo di trovare una eventuale superiorità di qualcuno cambiando le condizioni che questo qualcuno ha voluto. Mi sembra abbastanza strano. Quindi con gomme diverse, con uno bendato e gli altri legati, e con uno che parte un giorno prima e l'altro che gli piove sopra solo a lui, chi vincerebbe? Vabbè. Vabbè, alla fine, il momento più triste, perché si rendono conto, fa... Beh, adesso chiudiamo. Che ne dite? Io avrei delle immagini di stoner, sarebbe bello far vedere un po' di immagini di stoner e dei festeggiamenti che vince il mondiale. Che ne dite? Potrebbe essere un'idea? Eh, forse oggi potrebbe essere un'idea, forse sarebbe il caso far vedere qualche immagine delle vittorie di stoner e dei festeggiamenti. Forse. Del resto, ieri in televisione hanno spiegato che un elefante può fare fino a 50 kg di merda al giorno. Oh, pazzito! Non ha mai usato!